Serata noiosa, nulla da vedere in tv, in questi casi ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale, benvenuti ovviamente se è la vostra prima volta, come vi dico sempre, in questi casi sono il vostro Sion Trustriver, e anche oggi vi porto un nuovo video di Diablo 4, il nostro nono episodio, che prima di cominciare ufficialmente, ragazzi, come sempre, come capita ogni tanto, vi consiglio un canale di un amico, il canale dell'amico Ivan, ovvero KattaPS4, qua su appunto YouTube, per il momento sta portando solo short, lo sto invogliando a fare qualche video gameplay, anche perché i giochi non gli mancano, quindi vi invito ad andare a fare un salto sul suo canale, dare un'occhiata ai suoi short, amatoriali fatti da lui, ci mette molto impegno, quindi ci tengo molto che andiate a fare un salto da lui e visionare i suoi lavori, e a breve spero possa unirsi a noi come videogiocatore, in quanto gliel'ho consigliato di farlo. Quindi saluto l'amico Ivan, e ovviamente vi invito ad andare sul suo canale, vi lascio tutto in descrizione, miniatura a fine video, come faccio sempre in questi casi, e noi siamo pronti per partire con la nostra missione su Surry del passato. Cosa faremo oggi? In questa specie di zona baciata dal sole, così diciamo, del nostro necromante Sion, ecco qui, che è appunto con il suo bel set da fenomeno, da dandy, chiamiamolo come vogliamo, andremo a combattere Elias. Andiamo a cercare Elias in questo luogo, dopo che abbiamo preso una galleria segreta e siamo arrivati fino qui alla corte del tiranno. Elias sta cercando di fare un rituale per riportare in vita addirittura Andariel, la signora della sofferenza, uno dei quattro maligni minori, comunque uno dei sette maligni. L'avamo sconfitta in Diablo 2 all'epoca, per chi ha giocato Diablo 2, adesso ce la stanno per riproporre. L'orat è venuto con noi in quanto aiuto e anche in quanto ex mentore di Elias e intende fermarlo, appunto, come vogliamo fermarlo anche noi. Stiamo cercando di stringere un po' il cappio attorno al collo di Lilith, stiamo cercando di raggiungerla, ma attualmente Lilith sta risolvendo demoni, addirittura una signora dei sette maligni per avere alleati, forse, potrebbe essere. Intanto noi andiamo avanti, appena ci sarà da combattere, combatteremo ovviamente. Ecco qua, quindi andiamo avanti di qui. Non che mi lamenti se non c'è nessuno, addirittura c'è tanti forzieri di qua, sì. Ecco qua i nemici. Mi pareva che era troppo bello, eh. Passiamo di qui. Le nostre due morti sono già scattate in avanti, ma vedete, combatteremo. Ora io mi guardo sempre un po' in giro per non lasciare indietro né forzieri né nulla. Si prosegue di qua con i combattimenti. Per il momento ci stiamo gestendo. Il boss è la zona che ci sarà a breve, so che bello forte, perché l'ho già provato, quindi, in una registrazione precedente. Quindi vediamo un attimo come gestirci tutto. Allora qua non c'è nulla, andiamo avanti. Ma andiamo avanti, come si dice sempre in questi casi, saliamo di qui e passiamo di qui. Ed ecco lì, è lì avanti il nostro nemico. Il maestro richiama la signora. Non lo disturberò. Guardate che bastonateci. Stiamo già usando le nostre attacchie. E praticamente colpisci ad aria così. Quindi dobbiamo colpirla con il nostro veleno e poi spostarci quando fa questo attacchio. e poi cercare di stare sempre in movimento. Non posso ancora farlo. Anche perché a breve ci distruggerà il nostro esercito di morti. Ragazzi fa veramente troppo male questo nemico. Cioè, come ci tocca, ci sfonda la difesa. Metta vita light e meno pure per me. Dobbiamo girare e cercare di gestirla con il nostro brazzo di dolore. Non è il caso di colpirlo in mischio. Mi manca l'essenza necessaria. Ok, è caduta terra, vai. Facciamo il nostro attacco d'ossa. Ho ingaggiato a due secondi in mischia. Avete visto i danni che ha fatto. L'orath ci sta dando una mano. Ragazzi fa veramente troppo male questo boss. Ok, il nostro brava è tornato. Dobbiamo cercare di gestircela dalla distanza con le nostre essenze. Non posso ancora farlo. Vai, l'orath, continua a colpirla. Ragazzi, è un boss fortissimo, eh. Dobbiamo evitare il suo attacchio d'aria. Mi serve più tempo. Sto facendo molta fatica, sappiate questo. Accordiamo. Le pozze. Cerchiamo di continuamente tenerla sulla distanza. Ragazzi, il boss è difficilissimo, sappiate questo. Guardate come coerpisce ad aria adesso. Ha cambiato fase nel finito. Un piede che ci ha sfondato tutti i nostri boss. Sto facendo fare i miei ideati, ragazzi, ma il boss è veramente tostissimo. Spostiamoci. Sperando che la buttino a terra e adesso mi faccio una sopportazione. Allora, il nostro golem ha ceduto. Assolutamente l'orath non sembra cedio. Non posso ancora farlo. Ragazzi, il giudizio della madre è un boss devastante. Abbiamo battuto. Ok. Ottima. Ragazzi, è stato un boss veramente devastante. Ci sciottava con un colpo. Ora, una ricapricciante raccolta di cadaveri parzialmente mangiati. Brandelli di abiti, di pregio, suggeriscono che potrebbero essere i resti della famiglia reale. Quindi li hanno ammazzati tutti, ragazzi. Poco da fare. Allora, ci ha sciottato completamente tutto l'esercito di non morti. Non ha resistito quasi nulla. Abbiamo dovuto giocare a tutta di strategia, eh. Un boss eccessivamente difficile dal mio punto di vista. Quasi qua tutta la famiglia reale che è stata appappata. Eh, insomma, che facciamo oggi? Ma diamo impasto ai demoni. Un po' della famiglia reale, cosa volete che sia, no? Una roba tranquilla. Allora, barriera del bingo. Allora, rimuoviamo noi. Entro nel settuario di Elias. Un archivio del proibito, scelto con cura da Elias in persona. Avrà intenzione di evocare Andari e l'altrove. Le sue ricerche li ha svolte qui. Cerca in giro. Potrebbero esserci indizi in grado di dirci dove avrà luogo il rituale. Vabbè, io intanto mi sono, diciamo, preso bozze di tre santuari. Ognuno rappresentante uno dei primi ligni. Diablo, Baal e Mephisto. Come vi ricordate, abbiamo affrontati tutti in Diablo 2. Prima Mephisto in atto 3, poi Diablo in atto 4, che era il boss finale del gioco. E il DLC, uno dei primi DLC che uscì all'epoca, era appunto Baal, l'ultimo nemico. Sotto i disegni Elias ha scritto, solo i benedetti possono aprire a via. Quindi i benedetti da madre lirit, potremmo dire. Io ho anche paura, spero che tutti i boss non siano a questi ritmi adesso, perché questo battero è stato difficilissimo. La profezia si sta avverando davanti ai miei occhi. Avevo ragione ad agire. Quando arriveranno i primi maligni, non troveranno una preda facile. Saremo pronti. La nostra rinascita inizia qui. Con Andariel incatenata al cuore di Gulran, si nutrirà della sofferenza in questa città dell'angoscia. E noi, in cambio, ci nutriremo di lei. Il suo potere sarà nostro e lo useremo contro gli altri signori degli inferi. Se altri dovranno morire perché ciò accada, così sia. Non ti deluderò, madre. E mi pare che abbiamo già una bella scena di cadaveri, eh? Al centro della mappa c'è il Tempio dei Primi, un antico compresso sepolto sotto il Monte Civo. Ci sono alcune note scarabocchiate. Sembrano calcoli di quanta popolazione di Gulran sarebbe servita per risotterrare il Tempio. Che cosa hai scoperto? Riconosco molti di questi libri. Deve averli rubati nella cripta oradrica. Ma lui aveva già evocato demoni ben prima, no? Non dirmi che hai ficcanasato nella cripta oradrica. Avevo sigillato i suoi alloggi per un buon motivo. Credeva di ritorcere il potere dei primi maligni contro di loro, combattere il fuoco col fuoco. Gli diedi un ultimatum, fermarsi o lasciare gli oradrim. Il resto lo sai già. Ecco cosa ho scoperto. Andariel, incatenata al cuore di Gulran. Il suo male non resterà rinchiuso qui. Annegherà la terra nella sofferenza. Questo va oltre la follia. Direi l'opposto. Per una volta la mente di Elias è chiara. Quando l'ho conosciuto cercava uno scopo. Non sono riuscito a dargliene uno. Perciò l'ha trovato in Lilith. Non l'ho fermato. Ho lasciato che diventasse così. È la nostra occasione per sistemare le cose, prima che peggiorino. Sì, abbiamo il necessario. L'evocazione avrà luogo nel Tempio dei Primi sul Monte Civo. Cerca un'uscita. Conoscendo Elias avrà pensato a una via di fuga se le cose si fossero messe male. Dietro la libreria. Mi sa che è l'unica cosa che ha imparato da me. Ok, è lì. Perfetto. Terrazza nascosta. Usciamo da qua. Dovevo ucciderlo quando potevo. Sbrighiamoci. Allora, missione compiuta. Sussori dal passato. Qui guardate questa arena. L'avevamo già vista in passato, se vi ricordate. E adesso dove dobbiamo andare? Ok, ci teletrasportiamo al Rifugio del Destino. Rifugio del Destino e poi andiamo a Nord. Avete visto. Non so quanto manca a fine dei guardi. Ragazzi. Attualmente. Allora, lui la vuole evocare lì, Andarie. Quindi ci muoviamo in questa direzione. Se arriva qualche nemico, meglio perché ce lo gestiamo bene. Ora, il mio terrore è che tutti i nemici boss siano a livello di quello che ho affrontato prima, che ho fatto una fatica incredibile. Mi sono ridotto in mondo 1, eh. Comunque, come dite voi, in tier 1. Cioè, siamo nel mondo più facile e il gioco è difficile a questi livelli. Ecco l'Oret. Qual è il nostro prossimo passo? In questo paradiso. La Trinità ha riconquistato il suo antico tempio. Il problema è che non è semplice entrarci. Elias stava facendo delle ricerche sui santuari di Mephisto, Baal e Diablo. Solo i benedetti possono aprire la via. Sì, ma farsi benedire dai primi maligni è molto rischioso. Se è la chiave per entrare nel tempio correrò il rischio. Beh, noi ragazzi abbiamo già il sangue di Lilith Day, quindi non è che è sta grande problematica, eh. ok, cominciamo a ritinguare il nostro esercizio di morti sperando che rimanga il nostro esercizio di morti, che non crepino tutti come ratti a breve. i nemici li gestiamo, ragazzi, dai. E' proprio un boss di una difficoltà in Italia Torsica. Poi fatemi sapere anche a vostri nei commenti se avete avuto premi anche voi con quel boss che era veramente, veramente pazzesco, credetemi. e abbiamo finito adesso di rimpinguare le nostre... come si dice, le nostre... ok, questo è Baal, è tale della distruzione. Baal, signore della distruzione. La sua influenza ha scatenato tutte le guerre della storia. Non si stanca mai dei conflitti. Pronuncia il suo vero nome, Tor Balos. Tor Balos. Tutto bene? Io... Io sto bene. Mancano ancora due santuari. Diablo e poi Mephisto. Tieni duro. Beh, massimo attento c'è ben dentro. Il saggo di tre benedizioni di Baal. Cioè, ci manca pure Mephisto e Diablo e facciamo tutta la rega corricola, no? Ok, passiamo da qua, perché tanto la mia strada è questa. Allora, saliamo. Ed ecco Diablo. Altare del terrore. Diablo. Signore del terrore. Ogni paura mortale, ogni incubo. Nasce tutto da lui. Da sempre. Pronuncia il suo vero nome. Al Diabolos. Al Diabolos. Un'altra volta, terra. Ok, chiediamo fuorzietti. E passiamo qua. L'ultimo altare che si trova da queste parti. Qui ci venite anche a fare delle missioni secondarie, c'è sta con la quarta. Per questo avevo già i passaggi sbioccati per la zona dei cannibali. Però, stavo dicendo appunto, i boss di prima è stato veramente tostissimo. Spero che il livello di sfida dei boss non sia quello, perché potrei avere anche problemi a finirvi il gioco. Anche perché il gioco si regola in base al vostro livello di personaggio, quindi sarà sempre forte quanto siete forti voi un nemico. Cosa che un po' direi, non concepisco molto, però giustamente così ce l'hanno reso Blizzard, così ce lo teniamo. Io l'avrei fatto a zone e in base alla zona si arriva un livello. Se siete più atti di livello andate più lì. Un po' come, praticamente, un completista come me gioca ai videogiochi. Invece ho dovuto abbastanza... Ecco qua, questo è Mephisto. L'ultimo santuario. Mephisto, il signore dell'Ogno, padre di Lilith. Devi fare attenzione, il suo sangue fa già parte di te. Posso farcela. Visto? Il potere che è qui già ti fa agitare. Ti ho detto che posso farcela. Dimmi cosa dire e poi vai a cercare il tempio. E sì, quando sarai pronto, pronuncia il nome Dol Mephistos. Ma fa attenzione. Ok. Dol Mephistos. Ah, si è aperto un portale per l'inferno. Portale infuocato. Ancora il gruppo insanguinato. Ci rivediamo. Mephisto. Ormai so chi sei. Sì, ma non significa che non possiamo collaborare. Quel mortale, Elias, cerca di usare il potere dei primi per i propri scopi. Nessuno sa più stare al proprio posto, eh? La sua intromissione ha attirato Eki del passato nel mio rifugio dell'odio. Ma insieme possiamo ridare ordine al tutto. Quando avrai portato la pace in questo reame, potrò darti la mia benedizione. Un patto col demonio, gente. In poche parole. Questa potrebbe essere la rocca di Diablo III, un Kathos. Praticamente vi ricordavate quando Asmodan ha attaccato? Nell'attorno ci hanno fatto rivivere Tristran. Qua ci fanno rivivere appunto la rocca. Avrebbe senso. Atto III con Diablo III. Atto I con Diablo I. Ok, il nostro esercito è pieno. Vedo, abbiamo mette i campioni barbarici. Da cui Vulga si abbiamo appena affrontato. Questo è un valore di Vulga, tu sai? Vedete, qua stia lì. Ecco il lupo. Ecco il lupo. Rispedito negli inferi. La mia essenza si sta riformando. Perciò il mio potere è limitato. Abbiamo tutti i nostri alti e bassi, no? Tu meriti di molto peggio. Non ho fatto altro che offrirti aiuto, eppure mi ripaghi con l'odio. Perché non concentri quella rabbia su Lilith per il momento? Accogli la mia benedizione. Chi erano quei barbari? Chi erano quei barbari? Quali ragazzi sono fatti di Diablo II ed è di essi? Elias ha sconvolto l'equilibrio del tempio dei primi e quelle ombre del passato appartengono al dominio di Baal. Non al mio, ma accolgo con favore il loro odio. Allora, lasciamo qui Mephisto e riprendiamo il portale infuocato. Quindi, quali sono i fatti, ragazzi, di... Praticamente Diablo II, quando si andava appunto nella terra dei barbari, nel DLC, che ho chiamato DLC, però usciva proprio come disco a parte, perché non c'erano ancora i DLC su internet da scaricare, per chi si ricorda. Quindi sì, abbiamo vissuto i campioni dei barbari direttamente da Diablo II, quando Baal è attaccato nel quinto atto di Diablo II. E passiamo di cui dobbiamo andare a parlare con Loret. Monte Civo... Ehi che dobbiamo entrare. Dunque, una specie di santuario nel vulcano. Ho ricevuto l'ultima benedizione. Ci hai messo tanto. Ho visto qualcosa al santuario. Un lupo. È una forma risaputa di Mephisto. Non è la prima volta che lo incontro. Cosa? E me l'hai tenuto nascosto? Abbiamo tutti dei segreti, vero, Oradrin? Ora non abbiamo tempo per questo. Elias potrebbe aver già iniziato il rituale. Vuota la mente prima di continuare. Il Tempio dei primi Equip. Ok. Entro nel Tempio dei primi con Loret. Sì, dobbiamo passare di qua. Vediamo. Innanzitutto qui abbiamo un bel po' di Equip nuovo. Però nulla che mi serva effettivamente. Vabbè, avanziamo di qua. E così deve essere. Continuiamo ad avanzare. Non ci stava a dare menacce. Sera stava raggando tutto nel server di Diabrio, mi sa. Infatti avete visto che un attimo che si è bloccato il gioco. Però davvero non ci ha abbaccato fuori dal gioco. Non mi è successo. Allora, non perdiamo altro tempo. Il nostro esercito dei morti è abbastanza il completo. Lo sappiamo ancora per il Tempio. È molto, molto di effetto questa azione. È veramente bella. Veramente molto d'impatto. Guardate la lava, tutto. Ed eccoci qua. Questo è il Tempio, ragazzi. Entriamo. Per mano tua si aprirà la via. Quindi, Mephisto, ci stai usando? Questo mi stai dicendo? Me l'aspettavo. Ok, passiamo di qua. Discesa nel fuoco. Trovo il luogo del rituale con Lorat. Elias è sempre più vicino, me lo sento. Ci stiamo avvicinando al finale dell'attività. Intrusi! Le vostre urla toglieranno andare all'in questo mondo! Ma facciamo che andare non si risveglia. È tanto peccato se non si risvegli andare, non lo sappiamo già che si risveglia, ragazzi, ma noi cerchiamo di fare in modo che non si risvegli. Alla fine siamo noi eroi, o come sto chiamando nelle descrizioni dei video, anti-eroe di questa storia. Quasi non è che è un personaggio molto negromante, non è che è un personaggio molto tranquillo, vedete? Però, se ne ho una po' maledetta, non è che è un personaggio molto negromante. Quindi forse Nephisto vuole tornare nel mondo dei vivi. E noi potremmo rischiare di aprirgli la strada, eh? Poiché il padre di Heath può aver mandato la figlia per tracci e inganni, farle inseguire di lui, averci adescato fin dal primo momento in modo che gli abitanti del villaggio si dessero a salvo di Heath. Hai sentito? Non ci sono aspettato da scorrersi, ma non ha già lui ci ha anche fatto fuoco di una parte di non morti che non stanno resistendo proprio per niente i nostri scheghi, tranquillamente. Stiamo rischettando da sentire più in guarni. Il carallo è molto diverso. Ok, oh. Va bene. Non posso ancora farlo. Ci ha preso il pezzo. Che vuoi che sia? Stiamo stendendo il Heath come se non ci fossero domani, eh? Non sto solitamente andando nulla cosa. Sto tirando su tanti equip, quindi vediamo un attimo da farsi, perché qua rischiamo addirittura di avere più spazi eterni. Nel caso vado a vendere un'altra, quindi vedremo il mio più da farsi. Continuiamo a salire, stiamo salendo di continuo. Sala d'eterno. Non mi ha impogato, eh? Ok. Ok, siamo quasi al massimo di equipa, e questo è un forno che mi serve più tempo. Un torso praticamente leggendario. Allora, gente, siamo, vedete, abbiamo ottenuto anche questo torso leggendario. Ecco qua, abbiamo, come vedete, intelligenza più 18 addirittura. Allora, attualmente io me la sento di andare a vendere tutto, poiché non possiamo, appunto, come vi dico, continuare così. Facciamo una pausa dal video e riprendo da questo punto a breve, appena ho venduto tutto. Rimanete con me perché il video continua. E rieccoci qui, signori, dunque, breve pausa, siamo pronti per la seconda parte del nostro video. Vediamo dove proseguire, riprendiamo il nostro combattimento, ci siamo svuotato l'inventario, come avete potuto vedere. Adesso, diciamo che, diciamo che, ce la giocchiamo molto più tranquilla, questo po' che qua, stiamo avanzando, nonostante il terribitante boss iniziale che abbiamo affrontato in questo episodio, stiamo avanzando abbastanza bene, anche contro i Jedi, stiamo andando abbastanza bene, potremmo dire. Allora, proviamo in alto, siamo in blind run, come sapete, si prova un po' da pezzo. Non posso ancora farlo, nonostante il terribitante boss iniziale che abbiamo affrontato in questo episodio, nonostante il terribitante boss iniziale che abbiamo affrontato. Ed ecco qua, si scende di qui. Zorath non ci sta più seguendo. E te pareva. E te pareva. ... E te pareva. Dannazione, Elias. Ti avevo detto di non seguire questa via. Lorath... Hai... ... ... Ehi, vieni con me. Mi pare giusto, non l'avamo disfaito. Adesso ho un po' paura a ingaggiare il mischio e il nemizio. Voi amano i ragazzi, però... Non posso ancora farlo. Mi sta già stendendo tutto l'esercito da voi. Però se butta fuori il minimo, vedete... Più o meno di queste... Posso offrire i guardi dell'esercito. Ehi, dai, lì mi serve il mio tempo. Posso dirvi che dai lì mi fanno. Ma ce lo possiamo gestire. Ovviamente ci sta sfondando l'esercito. Ehi, è morto e tutto andato. Devi cercare di stare over here. Perché è vero che ci studia. Ok. Mi serve più tempo. Allora, i boss, ragazzi, sono difficili. C'è poco da fare. Si è buggato. Si è buggato, ragazzi. Tutto ci è fangato. Noi ne approfittiamo, eh. Però... Non è pronto come si bugga meglio, eh. Ho protezione per il torso. E facciamo la missione discesa nel fuoco. Allora, vediamo. Non è così forte. Però, ce la mettiamo da parte. Allora, passiamo di qua. Via delle anime perdute. Penso si debba entrare di qua. Ed ecco qui questa donna misteriosa, Taissa. Cos... Cos'è successo? Sento... Un fuoco che mi scava alla pelle. Ti hanno tatuata. Un rituale. Io... Sento qualcosa. Una voce nella mia testa. Andariel. Tra te e lei è stato stabilito un legame. Chi sei? Ta... Taissa. Tu chi sei? Io sono Lorath. Uno degli Oradrim. Oradrim. Come... Come Elias. Se ti ha detto così, ti ha mentito. Sono venuto per ucciderlo. Pensavo di averlo fatto, ma appena mi sono voltato era sparito. Se è sopravvissuto, si sarà rintanato nel suo rifugio. Rifugio? Ha un palazzo. Da qualche parte tra i deserti del Kejistan orientale. Non so altro. Quindi si va ulteriormente a... Stanare Elias. Però è il momento. Beh, almeno c'è un lato positivo. Con la sua scomparsa, forse i cannibali di Gulran si disperderanno nel caos. Come troviamo il palazzo? Dobbiamo raggiungere Tarsarek. La gente del luogo conosce bene i deserti del Kejistan. Forse qualcuno avrà sentito del palazzo. Lasciatemi venire con voi. Non so quanto possa essere d'aiuto in queste condizioni, ma... vi devo la vita. Non ci deve niente, ma sei la benvenuta tra noi. Anche tu meriti di vendicarti. Perfetto. Allora, la maggior parte del season si è persa nel tempo. Poche parole. Osa provocare Kodira. Destino. Allora, quindi vediamo dove dobbiamo andare. E la... Ci facciamo prima fare il teletrasporto. Via. Tarsarek. Vai. Ok, andiamo a parlare con... il nostro amico... Oradlin. Avete scoperto qualcosa sul palazzo di Ilias? Per lo più voci. La gente di qui parla di un incantatore che vive in un palazzo grandioso oltre la tempesta di sabbia infinita. Uno di quei nomadi potrebbe aiutarci. Conoscono queste terre meglio di... Taisa. Taisa. Andariel. La sento. Mi serve un posto per tenere a bada la sua voce. Trovo una guida. Io cerco qualcosa per aiutare Taisa a liberare la mente. Ok, trovo una guida. Parliamo un po' con tutti. Sto cercando una guida per superare la tempesta di sabbia nord. Non troverete un solo sciocco che accetterà una tale richiesta. Rinunciate e vivete più a lungo. Ma, proviamo di qui. Nadia. Puoi guidarmi attraverso la tempesta di sabbia nord? Siete pazzi? C'è un incantatore che vive al centro della tempesta. Vi strapperà la carne dalle ossa. Beh, ognuno ha la sua versione dei fatti, me pare giusto. Mi serve una guida per superare la tempesta di sabbia nord. Già mai. Nemmeno per tutto l'oro di Caldeum. Ok, ricordo Caldeum città. E il vecchio? Ah, preferirei finire negli inferi fiammeggianti che fidarmi di lui. Però potrebbe essere l'unico abbastanza folle da accettare. Passo le giornate da sbronzo tra le rive del fiume Argentech. Non è un bel posto. Fai attenzione. Torniamo da Gorath. So dove trovo una guida. Dov'è Talissa? Ho trovato un posto in cui può controllare la presenza di Andariel. È sicuro lasciarla qui? Meglio che incispicare ciechi nel deserto, almeno finché non troviamo una buona guida. Allora, vediamo. Beh, non pare essere lontano. Ci dobbiamo arrivare da questa strada. Quindi, cominciamo a scendere e vediamo fin dove riusciamo ad arrivare con il nostro episodio, come sempre. Ragazzi, la difficoltà sta aumentando in un modo smodato. Posso dirvi. Il boss inizio episodio è anche bravo e era tostarello. Quindi, non oso immaginare un personaggio che non abbia il minimo, come avremmo potuto tenere a bada. O semplicemente il personaggio di prima, che il boss inizio video avevamo dalla nostra parte i Rocrat, dai. Però, siamo proprio nel film di un modo più semplice e fano fastidale. E poi, lo che dico, mi sembra un po'. Spero che si fixino la cosa, perché attualmente è un po' tanto difficile di abituare per l'esperienza di gioco. Cioè, hanno voluto, forse, viaggiare sull'orbita di un Souls, ma diablo non deve essere un Souls. Quindi... Già avevano fatto una patch che aveva in difficoltà il gioco. Troppo poco dopo il lancio. Ora... Siamo ancora all'inizio e forse tante cose le devono sistemare. Non è più difficile di abituare così. Non ci sono tante cose da valutare. So che molti di voi stanno cambiando proprio build a tutto andare. Cioè, semplicemente... Molto probabilmente la build a behind the run, per godermelo così, gioco. Noi ne sono abbastanza fregato, sicuramente preimpostate su internet. Anche perché so che con la build a sangue il necromante è molto, molto, molto forte a livelli di... come si dice, di tank. Ogni giorno saltano fuori nuovi idioti. Stavolta non sarò io a far rotolare i loro cadaveri nel fiume. Col cavolo! Allora... Proviamo qua dentro. Vi conviene voltarvi e andarvene alla svelta, amici. Vabbè... Ah, una trappola, ragazzi. Di proprietà. Si fa. Allora, ci hanno inteso una trappola, come avete visto. L'Ord non ci sta più seguendo. Che è successo? Entra nella stanza sul parriacolo strano vecchio. Ah, ok, deve essere apparso ora. Qualcun l'Ord niente. Sveglia. Che c'è? Ho già pagato, andate via. Non dobbiamo riscuotere, ci serve... Non può essere. Possibile. Il simbolo dell'Ord... dell'Ord era... Oradrim. Sì, Oradrim. Deckard. Deckard, Cain! Sei davvero tu, vecchio mio? Sono io! Mischief! No, Deckard non c'è più. Io sono l'Ord. Ci serve il tuo aiuto per superare la tempesta di sabbia a Nord. Una tempesta, eh? Gli altri avranno rifiutato. Devono avermi propinato delle idiozie su un incantatore, eh? Eh... La sua magia non sarà peggio di come mi hanno trattato gli anni. Sì, sì, vi aiuterò. C'è una vecchia cappella là vicino. Buon posto per iniziare una nuova avventura. Bene. Raccogli il necessario. Vado a prendere Taissa, ci vediamo là. Ah, meraviglioso! Come ai vecchi tempi, eh, Deckard? Mi sa che non ha capito che non è Deckard Cain. Citazione, appunto, al vecchissimo personaggio che ci ha accompagnato per tre avventure di diabolo, per chi lo sa. Allora, dobbiamo raggiungere questo luogo, Carne d'Alle Rossa. Quindi, attualmente, viaggiamo tramite i voci a Tarsak. Il Gatto 3, ragazzi, è lunghissimo, incredibile, è veramente lunghissimo. Quindi, usciamo fuori di qua. Ok, e adesso chiamerò un po' la mappa, ragazzi, perché dobbiamo capire la direzione da prendere. Incominciamo a salire. Ci sta lo scorpione. La prima volta che ho visto lo scorpione. Questo mostro è la prima volta che lo vedo, con tutte le ore di gioco che ho fatto. Sì, allora, ci deve essere una strada di qua che poi ci fa arrivare lì. Quindi, proviamo. Di nuovo, ragazzi, nelle dune del deserto. Nei giochi di diabolo non riescono a non metterci in deserto. È più forte di ora. Brizzat deve piazzarci dentro ogni volta. Quando ho visto che questo gioco cominciava nel freddo nord, ho detto Che bello, non avremo il deserto in questo momento. Sarà questa prima volta. Mannaggia loro. Allora, avanti. Allora, avanti. Allora, di qui ci devessero un po' di più. Non passare. Forse questo ponte. Che non avevo ancora visto come ponte. Vedete? Abbiamo aumentato la nostra fama. Si è completata la parte di mappa. E noi. Descartes è dentro. Perché è convinto che è Descartes Cain, eh? Bello scirocco. È una buona cosa che siamo in controllo. Un luogo sacro. La sua influenza sarà più debole. Un luogo sacro che abbiamo anche a stato della Madunina che gli ha dato una scelta di traverso. È un po' abboccata. È ammarrata, come si dice. Siamo tutti pronti, Oret. Io sì. Taissa deve decidere se unirsi a noi, però. Ogni fibra di me vuole superare quella tempesta e versare il sangue di Elias. Ma... Forse conta sul fatto che la mia brama di vendetta mi guiderà di nuovo da lui. Per finire ciò che ha iniziato. Sarà meglio per tutti se resto qui. Non vergognartene. È la scelta più saggia. Ti porteremo la sua testa. Posso fare qualcosa per aiutarti, Taissa? No. Sono già stata un peso per te. Un giorno troverò il modo di aiutarti. Cosa ti sta dicendo Andariel? Cose terribili. Cose folli. Sa del ritorno di Lilith e di cosa ha in mente Elias. Ma ad Andariel non importa chi vince. solo che qualcuno perda e che soffra in maniera indicibile. Che bello. Vabbè, ragazzi, usciamo all'esterno e parliamo con quello che è convinto che c'è Decrad. Parlami di Decrad Kane. Ha! Ti ha detto molto di sé, eh? Ricordo che un tempo non si riusciva a farlo stare zitto. Vi siamo conosciuti molte vite fa. Nell'Ara, no, che credo. O forse... Tut golein. Esatto. Un tempo era un marinaio. Eppure un bell'uomo. Hai capito? Decad è sempre stato un tipo serioso. Gentile, affidabile. C'è il cuore ogni torto che potesse raddrizzare. Ne abbiamo raddrizzati molti. Chi mai si sarebbe aspettato di trovarlo qui? Sempre così serioso e sempre in compagnia di personaggi interessanti. Pronti? E tu? Spero che tu abbia le tasche piene di pozioni curative. Altrimenti... Prendi quelle che tengo sulla vecchia Isabella. La tempesta peggiorerà. Lo sento. Quando inizierà a infuriare, dovremo trovare dove ripararci. Altrimenti di noi non resteranno che... le ossa e racconti. Ok. Incontra Meshief fuori dalla tempesta. Beh, è qui vicino, ragazzi. Andiamo a vedere quest'ultimo step. Abbiamo ancora un po' di pochissimo tempo di registrazione insieme. e andiamo a vedere, appunto, un brutto... come si dice... un brutto cimitero pieno di bestiacce schifose, tra Scerpore, riofiditenn a Scerpore, magari a casa mia, no. E altri mostrazzi. Il nostro esercito di morti fa il suo dovere, tenendoci lì lontani. Ed ecco qua. Perché siete tutti qui? Ah, assaporo questo momento! Sarà un viaggio memorabile! Eh, Decad? Non vedo l'ora! Allora, segui Meshief dentro la tempesta di sabbia. Non che sia la mia intenzione farlo in questo momento. Lui, perché? Lui va. Ok. Ci aspetterà. Speriamo, ragazzi. Ho registrato veramente tanto per oggi, e quindi io vi invito a, con questo saluto, lasciare un pollice su, un like, se ovviamente questo video vi è piaciuto. Ma cosa più importante, ragazzi, se volete sapere come continuerà Diablo 4, qua direttamente sul mio canale, vi invito ad iscrivervi. Iscrivetevi, attivate ovviamente la campanella in alto destra, qua su YouTube, e in questo modo saprete sempre tramite notifica quando vi metto online un nuovo episodio di Diablo 4, il decimo, il prossimo, per eccellenza appunto. Detto questo, in chiusura di video, vi ricordo il canale del mio amico Katta PS4 che sta facendo short qua su YouTube, e vi invito ad andare a fare un salto sul suo canale per vedere le sue creazioni. Quindi, andate a dargli un'occhiata, andate a supportarlo, che ci tengo veramente tantissimo. Noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video, e grazie a tutti di aver visto questo video. e grazie a tutti.